Sebastiano Rodwell, una buona partenza qui a Firenze, subito come no the match. Sì, molto contento, è stato bello rientrare qui a Firenze, tanti ricordi, tante emozioni. Sì, un perfetto inizio, conoscere un po' il gruppo, ci siamo allenati bene in settimana. E sì, nonostante la partita non avesse valore a livello di punteggio per la classifica, il nostro obiettivo era fare bene, segnare il più possibile e giocare. Quindi penso sì, siamo abbastanza soddisfatti. Una partita ha preso subito una piega giusta, però insomma anche dura, vedo sul tuo volto ci sono i segni anche di una bella lotta in campo. Eh no, sicuramente è stato impegnativo perché comunque da quello che mi hanno raccontato i ragazzi, la partita è andata, è stata una battaglia e quindi ecco, volevano rifarsi qui a Firenze e anche il Recco, quindi no, sicuramente è stata una sfida impegnativa. Senti, l'impatto con la squadra in generale, con l'allenamento e tutto mi sembra più che positivo, sembra che stessi giocando già dall'inizio di stagione. Eh no, è stato molto facile inserirmi nel gruppo, tanti ragazzi nuovi, però sì, tutti molto gentili, tutti fantastici, un'accoglienza meglio di questa non potevo aspettarmela. Grazie a voi, grazie.